Edoardo Colombo, come commentare, questo punto è arrivato in rimonta, Colombo in meno, però insomma ad un certo punto ci ha dovuto mettere una pezza pure tua, alla fine serviva qualcosa in più a questo Arezzo per portarla a casa, questo derby. Certamente, comunque è sempre un punto che ci portiamo a casa per il nostro percorso da qui alla fine, comunque ancora non abbiamo perso, comunque da questa penso l'ottavo risultato utile consecutivo. Siamo stati bravi a riprendere una partita che comunque dopo il gol preso, rimasti in dieci, si era un po' complicata, abbiamo avuto tante occasioni, c'è da fare comunque complimenti anche all'altro portiere, ha fatto gli interventi molto difficili, è stato molto bravo. Penso che abbiamo reagito alla squadra come si è visto anche molte volte durante quest'anno, niente ci portiamo questo punto a casa, pensiamo già alla prossima contro il Tiferno e poi siamo donati per chiudere una bella settimana. Il Gavorano ha vinto, quindi si allunga un po' il distacco dal terzo posto, cosa è mancato oggi per vincerla, dell'episodio dell'espulsione di Biondi? Sinceramente che il Gavorano abbia vinto, ok, va bene, facciamo i complimenti, ti dico solo che noi stiamo pensando partita per partita a noi, a noi poi si vedranno alla fine dove arriveremo, piazzate in classifica.